Per Little Service Pesaro è tempo di staccare la spina dal campionato, chiudere le valigie e partire per Roma per giocarsi la finale di Supercoppa. Ad attenderla sabato al Palacisaroni di Genzano alle ore 21 ci sarà l'Olympus Roma, vice campione in carica della Coppa Italia conquistata qualche mese fa dai Biancorossi a Salso Maggiore Terme. Dopo il successo degli uomini di Colini nell'ultima apparizione in campo, vincendo per 3 a 4 sul parquet del Monastir, è cresciuta la consapevolezza di una squadra che in questa prima parte di stagione ha faticato a trovare continuità di risultati. Eppure guardando la classifica in campionato, il match di sabato sera vede nettamente favorita Roma, saldamente al secondo posto ad 11 punti di vantaggio sui Biancorossi. Però si sa, le finali sono partite a sé dove i pronostici sono fatti per essere ribaltati, con un Ital Service che vuole dare una svolta effettiva a questa stagione, cercando di alzare in cielo l'ottavo trofeo della sua storia nella massima serie. Biancorossi che per poterlo fare dovranno disputare una partita pressoché perfetta, facendo a meno però dell'apporto di Arcidiacone che ha salutato giovedì pomeriggio compagni e staff trasferendosi alla Comar Reggio Calabria. Per la grande occasione di sabato la società di Lorenzo Pizza ha deciso di mettere a disposizione un pullman per tutti quei tifosi che volessero seguire e supportare l'Ital Service pagando una quota di 10 euro. La partenza è fissata sabato pomeriggio alle 15.30 al Palafiera di Campanara. Dal calcio a 5 alla palla spicchi, con un Ital Service a Loreto Basket che prosegue il suo ruolino di marcia con dito solo di vittorie, aggiudicandosi anche le ultime due partite. Dopo aver battuto nel weekend il San Marino per 73 a 55, è arrivato il decimo successo consecutivo strapazzando il Gualdo Tadino sul parquet di Perugia per 45 a 71.